Siamo arrivati ormai alla diciannovesima edizione e oramai sento che questo progetto, nato appunto tanti anni fa, che ha aiutato 592 bambini, 592 bambini, avete idea di quanti siano 592 bambini? Sono tantissimi. Sono tutte storie che abbiamo incrociato molto forti, storie di bambini che non erano mai usciti da casa, bambini che vivono in situazioni socio-economiche complicatissime, con problemi di salute molto gravi e famiglie che erano un po' abbandonate al loro destino. Siamo riusciti in tanti anni, e questo consentitemelo con un pizzico di orgoglio, anche, oltre ad aver aiutato con le automobili attrezzate o con dei contributi economici, anche a cambiare un pochino la mentalità di questa nostra bellissima comunità, che si è sempre distinta per questo valore, che fa parte della nostra cultura più autentica, e non il valore della solidarietà. È riuscito a cambiare un po' l'approccio con la disabilità. Oggi, rispetto a tanti anni fa, vi assicuro che all'inizio è stato proprio complicato convincere le famiglie e i bambini a portare all'attenzione di tutti questo disagio, questa sofferenza, questa difficoltà, c'era molta vergogna. Si teneva, come dire, il disagio in casa, non si portava mai all'attenzione dell'esterno. Chi era disabile o chi aveva in casa un disabile è come se avesse vergogna di appalesare questo disagio. Invece adesso le cose sono cambiate, possiamo dirlo proprio con estrema tranquillità e certezza. Le cose sono cambiate, perché questa comunità meravigliosa, che è la comunità salentina, ha fatto sentire l'affetto, l'amore, al di là appunto delle donazioni dell'automobile attrezzata o dei contributi economici, ha fatto sentire che la disabilità si deve, si può vivere con totale normalità. Infatti questi bambini, i nostri bambini, che sono 592, fanno di tutto oramai. Non so se seguite in televisione abbiamo spesso dato anche notizia di come questi nostri bambini vadano a pesca, vanno in barca a vela. Ultimamente c'è stata anche un'iniziativa qui a Muroleccese, presso l'autodromo La Conca, vanno in macchina, fanno i rally, addirittura vanno a cavallo, ballano. Ultimamente non so se avete assistito anche a uno show di una bambina straordinaria che si chiama Luna, insomma nulla gli deve essere vietato, tutto gli deve essere consentito in piena e totale normalità. Io penso che sia stata una piccola rivoluzione culturale che noi salentini possiamo sfoggiare con grande orgoglio, perché è una cosa che riguarda veramente il nostro territorio, grazie a quest'azione che è stata fatta in questi anni. Ma noi non ci fermiamo, siamo arrivati alla diciannovesima edizione e ancora ci sono tanti bambini in attesa. Grazie a iniziative come questa, e voglio ringraziare veramente con tutto il cuore Franca e Serena che so che si sono date un da fare incredibile e meritano un grande applauso. Grazie a iniziative come questa, che poi si arriverà al rush finale il 6 gennaio, a proposito siete invitati, tutti non lo so, ma una delegazione vi prego di portarla in televisione perché daremo anche visibilità a quest'azione benefica di questa serata. Ci sono tante iniziative come questa che ci consentiranno di raggiungere ancora una volta gli obiettivi prefissati. Abbiamo tanti bambini in attesa, ci sono delle automobili da consegnare, ci sono dei contributi economici per spese, ahimè, mediche, che ahimè tre volte dovute a spostamenti fuori regione, consentite ma non ce la faccio più forte di me, è assurdo che noi qui in questa regione Puglia si spendano un milione al giorno, parliamo di circa 350 milioni l'anno per andare a curarci fuori dalla nostra regione, in particolar modo nelle regioni del nord. Sono soldi nostri che arricchiscono ancora di più, qualora ce ne fosse bisogno, il nord che sicuramente ha dei sistemi sanitari, ha degli ospedali che funzionano in maniera differente. Qui la situazione è drammatica sotto il profilo della sanità. Non voglio aggiungere altro, veramente, voglio fermarmi qui perché è una cosa che mi fa una rabbia enorme. L'altro giorno sono stato dal direttore generale, gli ho sottoposto dei casi di alcuni bambini di cuore amico che hanno bisogno di controlli costanti e si sentono rispondere, non è possibile anche prendere la prenotazione perché dovremmo prevederla per ottobre del 2021. Nel frattempo la gente muore, nel frattempo la gente non si cura più, non ha i soldi per comprare i farmaci perché il ticket è altissimo, gli ospedali si richiudono un giorno sì, un giorno no, e non è accettabile, non è accettabile che la sanità possa essere gestita in questa maniera. La sanità è in capo alle regioni, è in capo alle regioni. E se qualcuno ha da dire qualcosa contro chi ha saputo gestire negli anni le regioni del nord, io non ci sto. Io invece me la prendo con chi purtroppo invece ha gestito malissimo le regioni del sud, me la prendo principalmente con chi ha pensato ai propri interessi e non ai interessi di questa comunità perché i soldi sono gli stessi, i diritti sono gli stessi, le tasse sono le stesse a nord, a sud, da Bolzano a Caltanisetta, Salento e Otranto e comprese. Però voglio fermarmi qui perché poi non vorrei che qualcuno pensasse che stiamo cercando di fare altro. Quello che facciamo principalmente qui questa sera è solidarietà, quella vera, quella concreta. Concretezza e trasparenza sono la forza di cuore amico. In 19 anni abbiamo raccolto più di 4 milioni e mezzo di euro, abbiamo aiutato, come vi dicevo, 592 bambini. L'intero ricavato di questa serata sarà devoluto ai bambini senza alcuna detrazione. È uno dei pochi casi in Italia dove un'associazione non destina neanche un centesimo dai fondi raccolti per l'organizzazione. Ci pensiamo noi a quello, grazie ai nostri volontari. Grazie ancora. Grazie.